Speriamo che pian piano di recuperare tutte quante per essere a posto nei momenti che conteranno il doppio, anche se contano sempre tutte le partite, perché questa qui è sempre squadra in emergenza, speriamo che forse sott'anno a qualche minuto, se ne avremo bisogno, sicuramente ne avremo bisogno, possa darcelo, anche se è appena cominciata adesso, quindi questa sarà l'unica aggiunta e poi recuperare anche Mascia perché ha giocato, ma aveva una caviglia in disordine perché si era presa una distorsione e quindi adesso in questi giorni qui è stata riposo e la stessa cosa anche Goden, perché anche lei ha avuto un problemino e quindi ci stiamo allenando, le ragazze e le giovani ci stanno dando una grossissima mano, ci serve anche loro per crescere, però speriamo di avere veramente tutti gli effettivi in buone condizioni al più presto. Quattro partite ancora di Eurolega, prima della seconda fase e quante bisogna vincere per stare tranquilli, o perlomeno per centrare l'obiettivo che volete centrare? Intanto bisogna vincere la prossima, perché conta il doppio, visto la situazione di Targovist che ha chiuso i battenti per metà e quindi la soprano probabilmente sarà l'altra formazione che passerà il turno e quindi per noi diventa ancora più importante vincere la prossima.